Prepariamo insieme i panzerotti di carne ripieni, un secondo gustoso e saporito, perfetto per tutta la famiglia. Trasferite in una ciotola il macinato di carne, condite con sale, pepe, prezzemolo tritato e aggiungete un uovo. Unite anche il formaggio grattugiato e impastate aggiungendo il latte poco alla volta. Dovrete ottenere un composto sodo, all'occorrenza aggiungete o altro parmigiano o del pangrattato. Prelevate una parte di composto e formate una polpetta. Sistematela su pellicola o su carta forno e appiattitela aiutandovi con il mattarello. Stendete cercando di dare una forma circolare e quindi farcite con il prosciutto e il formaggio filante. Ripiegate e sigillate bene i bordi. Appiattite delicatamente cercando di formare un panzerotto. E' facile. Rivediamolo insieme. Polpetta, pellicola o carta forno. Appiattite. Farcite. e richiudete. Sigillando bene i bordi. Formate il panzerotto. A seconda delle dimensioni, con queste dosi otterrete circa 5 o 6 panzerotti. Avvolgete ogni panzerotto nel pangrattato. Oppure nella farina di mais se siete celiaci. Premete bene per far aderire. Cuocete in padella con un filo d'olio, oppure in forno o in frigitrice ad aria. A metà cottura rigirate i panzerotti. Coprite con un coperchio e cuocete per 3-4 minuti circa. Ed ecco i panzerotti pronti per essere serviti e gustati. Magari accompagnati con una ricca insalata mista o con delle patate al forno. Grazie per aver seguito anche questa videoricetta. Alla prossima. Ciao!